Io ho presentato una proposta politica di unimento di questa grafia di Susano, di questa maniera di scrivere Susano, però fendi il suo lavoro, al suo contrario. Io ho questa proposta, e questa proposta è beccia, la provata di Savrimo Bortani, che sono rantasetti, ci sono arrivati studiando Susano. Dunque, se non è che il suo artico di una posizione politica e il suo artico di fare una proposta denica può giustificare una proposta politica, il nostro processo è stato il suo contrario. Il suo artico di un'analisi scientifica, linguistica, di questa situazione di Susano e nel suo interesse, ha pubblico e va dire l'ascritto di Susano, da una maniera. O' il suo artico di una maniera. Questo non è più che sa che vi parlando di Savini, e sa cosa dire, questa grafia di Susano è più che la proposta originale di Sammellus, ma è una proposta a noi che rende conto del suo vasto che ora esiste il 6LSC e non fai più non c'è un compromesso tra il 6LSC e il bisogno di scrivere da una maniera di verità che non proprio lo pronuncia a su un banco uno bello vago di pronuncia. Dopo un anno si chiamavano tanto in forza di questo sistema fonti proprio dialettosi che da similante a De Bruzzo a questa prima proposta, fonti dialettosi bittichese e baronese però a Pusti che ha provato questa proposta fu addendi con un maestro di scuola e poi che avessia questa cosa che ha proposto sul blog Uru, questa scoperta delle università di Cambridge che non ti fai nulla come te lo scrivi in un poetto, che lui da riconoscere il suo poetto voi, tu dici dunque, a Savini, fin da questa proposta è uno che deve superare, a Savini da Ravessini e questo da pubblico in Silicqua, dalla Ravessini che fin da scrivendo in LSC dove ognuno lo pronuncia in questa maniera su, in Silicqua, appunto, arrivato a pronuncia in LSC, a Savini da Ravessini e questo da Ravessini, l'inglese è scritto come te lo pronunciato a Savini da Ravessini e questo da Ravessini e questo da Ravessini e però devo pronunciare, si che è in regola, devo pronunciare l'inglese in modello e fin da sa, in parentesi a LSC, che graffia già da comuna, se usato gli avessi uno spago macco dell'inglese, dunque, se è una cosa che non torna, non sa, ma il modo che comincia a inquadrare bene, dal sinizio, sa questione della lingua, poeta, come ti appunto, no, al sinizio, non è questione, o si serve di una graffia sarda comuna, dunque, sa, si vogliono fare una, no, prima e poi io so comprendi questa lingua, ma so manco in linea generali, quando io so comprendo il gusto, io so, in qualche maniera si vuole un movimento, dunque, sa, su corso di oggi che ha durato 8 ore, sa, questi, si concentrava, è grave, è pesante, e io voglio faremo in una gira, quando ha provato questo scorso su, in Niscano Monteverro e in Ghilazza, e concentravo mera, questi, toccano a si sforzare, le parti mia, e le parti del bosattro puro, allora, sa, vini, a sa, venna, vi dica, tutto sa linguistica, chi non hai fatto in una sardinia, vuoi tenere in una sardinia, non davanti questa linguistica, ho una bella parte di questa linguistica, che è sempli, e ti permetti di, di comprendi su che te pifai, chi vuoi si va, è una proposta politica, a pizzo del santo, dunque, si che io si muovi, parteo su di, sa, definizioni di lingua. ci vuoi tre spregunti, sa, chi lui, questo gusto vi ha, questo gusto vi ha pensato, come ti devi fare, una grammatica, normativa, però descrittiva, dunque, sa, e sa linguistica che tento posato, tutto, in sa scuola, sa grammatica prescrittiva, sa maestra ti narra, e di aici, tu i depi fai di aici, chi ne dà nau, eh, tu i brigarini fai di aici, no, sa linguistica prescrittiva, esiste un'autorità metafisica, chi li narra su che i depi fai, questo nostro non dobbiamo fare, uno che sia un linguista, due, che è uno sui sardos, tu vai a un usardo, narra di depi fai di aici, e ti manda la, aigo, dunque, sardinia, fia la, a una maniera, uno, Deus è un linguista, descrittivo, questo è, sa cosa, come ti dà per imparare a Deus, Deus non ha per imparare, almeno non ti imparare a andare a sardinia sui depi fai, ma ti imparare a ascoltare, a come ti vuoi da sardinia, e a donare una descrizione di questa cosa, o, dunque, poi, conoscendo, appunto, sa situazione culturale e politica di questa sardinia, conoscendo, come ti vuoi, sa, 100 concari, 100 beruita, è una soluzione prescrittiva, la sardinia non deve funzionare mai, è bioso che avvincere uno compromesso con il testo di questa LSC, il problema di questa gente, ma non tanti riscrittiva, ti dà per i giorni, cosa ti prego, sa, io ti dà per imparare, che le vunti, i fontesi normativi che avessi usato, i miti, se no, non è niente bene, non è miti normativi, no, 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 hai tasservi sa circa linguistica, sa circa due lavori fai, o può arrivare a un modello generale della competenza linguistica in tutto il mondo, oppure lì lo vuoi fare, il uso specifico vuoi usato, a noi si servono una maniera di aonai, in qualche modo, in qualche maniera di usato, sì, e in questa mirata, sa circa, hai gusto. Però toccano in altri diritti a comprendere sa lingua, aonai, in questa studia, sa, a un po' di ita da vai, sa circa, sa lingua, aonai è. Non so che in questa studia, nella questa linguistica, appunto in Bessio, sa linguistica moderna, la cosa perdi, sa, non metti giù in un altro, non mi abbiamo un lapsus, di, scrivete l'etimologia, sa metti giù in un altro, è, filologi. Sa filologia non è linguistica, tante cose comprende. Sa linguistica ne comincia con dei sorsi, su un osso generale dei sorsi pubblicano su 1960, già è cent'anni fa. E poi, sta grande, svolta da fatto a Chomsky, in gli anni cinquanta, sessanta, e fatti due s'approccio, sono rivolti diversi, radicalmente diversi, però fatti complementari, ti servono solo e ti servono santo, se non c'erano di essi. S'approccio, quindi, Chomskyano, generativista, questo è un approccio psicologico, individuale. Questo approccio ti permette di scegliere un di essa lingua, un di essa lingua è con il nostro. Dunque, sa che lui, si può studiare questa lingua, si può essere in questa maniera, si può essere in questa lingua del individuo. E questo è questo approccio Chomskyano. La linguistica è un fenomeno psicologico, individuale. Polisi, studiare, sa lingua è in seconda che è una persona scelta. Questo è di uno Chomskyano, sa definizione, e da sottoscrivere, stabilire in che modo la lingua è conosciuta dai singoli individui. Ciò che la teoria linguistica cerca di mettere in luce è quella conoscenza che ogni parlante deve possedere per poter essere considerato un parlante di una data lingua. Cioè, tu quando usesti un sardo voedante, quando scesi un aganto scosso di questo sardo, che ti permette di imparare frasi in maniera corretta, le vogliono in una frase in maniera corretta, e dalla spronunciare in maniera corretta. Carlo Scisi conosce, senza i ducili deducili, conoscenza, come si diceva? Tacita in sardo, come si diceva Carlo Scisi di inventare. Taghida, taghida, tacita, latino. Dunque, in noi c'è tutto un traballo di varie, che si inventa sull'essico etnico della linguistica. Devo hanno provato un uago, ma non tutto. Dunque, tu scesi, non vuoi dati nessun sardo, e hanno scesi questa cosa. Però, e tal se risolvi, metterli nessun problema, scesi, a ogni dei pesi cercare, questa conca di una persona, però non scesi ancora, scesi l'assendo in folla. Se un'altra cosa manda, è importante in me, la dessa lingua, chiesi, su fatto che la sua lingua è un fenomeno sociale. ciò che si indescrive, la sua lingua serve a comunicare. Dunque, non c'è un commento che non c'è, su fatto che uno è buono a ridi, o buono a papai e a digiridi, su chi va a parlare. Non c'è una cosa che è limitata a un individuo. La sua lingua serve a comunicare tra individui. E come ti parla la sua lingua? perché indivarti a s'interazione linguistica. Dunque, su proprio un momento, la sua lingua è un fenomeno sociale. È individuale, è sociale. Poi con il suo muro è importante, abili sul diritto linguistico, da un amarti come diritto umano, individuale, però a s'attravarti è un diritto sociale, poeta. che a me mi permette se devo edare in sardo, però non c'è nessuno che mi risponde in sardo, non mi servirà nulla questo diritto. Questo diritto è un diritto collettivo. E ai c'è tutto, questa lingua è un diritto collettivo. Un fenomeno collettivo. Stabilire quali sono i meccanismi che regano l'uso sociale, lo sviluppo storico della lingua, cioè quello che collettivamente si fa con la lingua, nella società e nel tempo. Un risultato di questa visione cioschiana della lingua è che questa competenza, dunque, da su cui uscite un individuo della lingua, questa competenza linguistica, non la devi cambiare mai. Una volta che uno ha parlato con questa lingua, la cosa è che la devi andare a radiarci, ma non sono serio. Questa competenza cambiala in continuazione. tu non lo considerasi corretti, non lo considerasi corretti. Non lo considerasi corretti. Savate più la lingua del buon d'asta quando tu so' il gioco. Poi, per quanto riguarda questo anno diciasi vostro passare 10 anni, 30 anni, 40 anni, questa lingua è cambiata, non va a che dello. E tu accettas. O, cosa, cosa che? Inante non accettaste. la competenza cambia la lingua come fenomeno sociale è indefinibile la lingua come fenomeno sociale è indefinibile è una dimensione non la vuole si piazzare l'unica cosa che vuole si individuare è su che si è un ente di Deo e cercare di comprendere su che ci rende con Cadeo e poi dognuno di Bosa, se no come ti pare di Bosa, non mi comprende dunque quando da Deppesi Deppesi arrivai al dunque vuole di scrivere una lingua le strutture della lingua sono nella mente degli individui però non possono sorgere come fenomeni individuali tu voglio un UIPI la sa da solo senza dubai mai viga e varti a s'interazione linguistica non succede l'ultima lingua non sviluppa su UIPI Deppi viga e varti a s'interazione linguistica tu leppesi fu e dai il suo rato fu e dai a tui eccetera eccetera bellavello in tre sannuso un UIPI si involvano le competenze linguistiche che è plus o manco plus o di un umano però senza interazioni sociali senza interazioni non succede nulla invece donna da papà un UIPI e questo cresce non tu sai se non cresce ma sa lingua no dunque c'è una differenza ammanna e uno sbaglio ammanna questa visione chomskiana della lingua che è dato biologico una cosa che rigresce l'inconca questa è la visione del chomsky sul language acquisition device una specie di macchinetta che chi li va a sviluppare questa lingua in conca ma questa non spiega l'argomento in mai che lui non pica questa interazione linguistica non succede nulla e invece sì potuto santo succede questa cosa che è proprio determinata biologicamente dunque tenere usare bisogno di usare approcci gran parte dei meccanismi interiorizzati dai singoli individui sono il risultato delle convenzioni destinate a rendere possibile la comunicazione tra individui diversi convenzioni convenzioni tacite eh non è che non so se non so di accordi non so di un'argomento di un'argomento di un'argomento però succede lì e tra succede che questo è sui apaclarai sul libro che si è tra l'indici in voi e spero vedate mai tra un anno come funziona la sua norma linguistica e su origine come ti piga forma la sua norma linguistica in una situazione naturale a un lino cesto una scuola o un'accademia della crusca a Atinai su Lide Piffai eppure esistono i fonti normativi finiscono in una situazione naturale tradizionale come tecuse asata allora problema teorico centrale la rifinizione della sua lingua fonte normativa la comunità linguistica e noi non abbiamo ancora perfezionato questo concetto ma non tutto sa comunità linguistica o nai in questa situazione questa sardigna di Ovi chi Deo impera una certa forma non te ne sopra più esu ma che chi impera Massimedo o un altro poeta sa comunitario linguistica a Sarda a me ma riconoscere un uveso diverso Deo questa cosa mi dice a cattà quando sei andato a fare sagirca manna il sesto e andavo a una bottega pura a una sessantini anno scusato dovevo no ascolti miservi genti ho così intervistare ho provato stagirca eccetera no Deo no 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 fustete per andare a che signora Massimedo cara e ci ho fatto e via poi a Savini ha poco notte che signora ma cara e via questa persona per un spag adatta per una circa fonologica non tenia dentro e chi chiara uno però signora Maso via poeta quando cantare non chi chiara e via la riconnotto dessa comunità di desesto di questo giro di beccio su chi su sardo ducigia commento un altro di rari quando dopo una volta io ramazzo ma con fustete non posso fare nulla ti preoccupi troppo bravo e ma portavo smello contadori di conto se desesto e Deo ben di Amsterdam dobbiamo riparare le frasi di legger legger in sardo tutti non faria la sabina di ciappu ciappu lì avuto contai contus e che registrato e miso vostro a trascrivere un casino comunque ciappu bio che in una comunità linguistica spontanea esiste una gerarchia una gerarchia che da scoperti che cintra in questa comunità non non fonti rotto su i determinati tra quelli punti informati corretti e quelli punti informati che non può esimperare c'è una gerarchia informale però esiste dunque a introdere questa comunità linguistica c'è uno nucleo delle persone che riconnotano che non si guardano quelli altri e questo gruppo è sempre parte che vanno a questa situazione italiana quando si vuole uno scrittore che è riconnoto bravo chi deve influenzare a mera e si imperano una certa forma è più facile che altri agenti muro in cominci ad imperare dunque finito le situazioni più complesse e più formale più gerarchizzate gira e rigira funzionano queste cose le ho pensato che tengono un personaggio televisivo di questa maniera di italiana che non l'accademia di San Russo gira e rigida dunque se bisica con un dis proprio meccanismo e situazioni si vitticca e situazioni si complesse poi voglio donnavo questa definizione provvisoria dei comunali linguistica gruppo di parlanti che condividono in gran parte la stessa competenza linguistica però in gran parte ma non del tutto il sesto esistiti competenze diverse dunque personale in questa comunità linguistica che senti cosa diversa per non fai intimati in questa situazione buona e non fonti sbagli su individuali se non sapete che sa differenza tra competenza e performance linguistica non è cusso proprio fonti buona fu edus che scala scimpro zugu uno dei sa terza varti dei fu dante sesto noi precisi un me l'avrò chiuso manco ci vuole una e hai nantesi di questa costruzione il cimpro i zugu i scara di 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 e e questo è esatto esatto non risinata nuda risinata vai compre fonti rotte duas form arre con not che 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 attivarti di se stesso non si vai non si vai poi ci vunti altra cosa però chi chi davone si con si in tutte situazioni e non è che una porta duvasi individuo e un altra porta non duvasi chi da l'emisi con sta regola da vai sempre poi ci vunti altra cosa facoltativa se vuole scara scala o scalla e questa è facoltativa se avrò più versò la vuole scara o scalla dunque questa è una variazione individuale e facoltativa dopo rifai o non rifai e s'altro chi dare mi sa regola dubai sempre dunque il è una situazione pittica come questa del gesto e questo gruppo è tra 70 e 80 anni che s'antiformare la competenza linguistica misano 30 su secolo massale e sesto via prospittica mera le su gli esti via una situazione sociale già strutturata però si primera le su esti e visi in cui nipur omogenirari a soggetto vogento una comunitaria linguistica non c'è e sa una comunitaria linguistica spontanea non volunai naturali voi tra lingue naturale c'è paghe nuda una comunitaria linguistica spontanea si formata già e differenzia e cambia tais cosa dunque sud del eni tot gust la variazione dialetale del sardo rappresenta la frammentazione dialetale del sardo risultato di presentare ad esempio come una cosa negativa questa situazione naturale in ogni attimo dell'oro che lui lascia una lingua che si sviluppa un po' tutto su no bis che ha gruppi sociali diversi su e cominciano a sviluppare una lingua diversa o poeta non è scelta comunicazione ma è pur strumento di espressione decidete tirare dunque chi ha usato i modi di tutto matto che ascoltare a picciocchendosi dei 14 15 16 anni fu e dendi finito in italiano intendese che essi impenano diverse proprio gli adolescenti rendono bisogno di distingare di sado e cominciano a sperimentare con la lingua chi su cambiamento chi ci vuole un picciocchendo a ribara a la generazione che si ha il filoso dei gusti il filoso dà imparare che cosa normale ponoso allora è una cosa mancara no no ma non si non si un piccolo di ciocchendo però che a ribara imparare il villo di uno dei gusti poi c'è una cosa normale e c'è sempre questa tendenza dentro di un movimento uno sui aio e sui nemori si ne comprende dunque la lingua non può ricambiare il brus dei studi poi tra generazioni non si comprende il brus dunque la lingua tirala questo bisogno di comunicare tirala a aguantare questa situazione come il test e poi ci molti sti piedi che gira tra sempre quando imparano la lingua ne va molto regolari molto regolari no ponai in italiano in olandese dice un mutone di questo esempio ha soffritto no questa è una cosa che vuole fare uno di più dei degli quattranno soffritto regolari e il regola di cipio ciappone accorsa cioè il pp e su vittic su tendito salendenza a fare la lingua iper regolare e specchio che è su brumannus adolescenza tendito salendenza a ci vuole macchimini si vuole i distinghi dei adulti dei mal ok dunque ci punti questa due forze una una a guantare scorsa con vittimunti e l'altra a cambiare scorsa e a sa venga arriva dall'equilibrio e sa bisica sa lingua cambierà però non cambierà ai cimpressi che non faccia pruse anzi compreni tra generazioni o dunque e chi ne controlla la chi ne sa supervisione de chi decibili si vorrà accettare esti sa comunitaria linguistica però non tutto come ti apu nao esti custa elix a regonota dei sa comunitaria e tutto avortas in comunitaria pitticca come ti punti di da sarda posso usardo punti persona sa chi poniti dentro un ruolo ufficiale tipo etta o scrittorio oppure no però c'è sempre c'è sempre una fonte normativa per sempre in donna donna socialari il c'è si orror va qui le su voderie chi non c'è si un'altra vorma tipo scola o su sardo custo vuoto di potere dovremmi queste persone che sa comunitaria individua rappresentate in questo ok questo è il suo modello di una comunitaria linguistica monolingue a ecci bisi che non esiste nessun luogo cioè sa regola su multilinguismo in tutto il suo mondo e su monolinguismo esti una dontesa inventata dell'evoluzione francese lingua nazionale il monolinguismo come ideale in tutto il suo mondo sa gente vuole un mutone lingua omogenitaria linguistica non mai esiste e io torrenti a sparesse come si va che del monolinguismo che ci viene e torrenti a sparesse dunque questo è un modello ideale e i tabisi che questo individuo questo rappresenta la competenza linguistica di una persona interagisce con questa gente che ha toglie e bisogna che se la che è in mezzo la comunità linguistica tenere questa interazione non è una cosa normale logica elementare e scrivuti a forza interagisci per un spago dunque sa competenza linguistica dei gusti persone gli adesso per omogenea e per rappresentativa del tutto comunitari può avere delle competenze dei gusti che sono in periferia e questo dubbio sicuro che studia come ti ha provato Deo canto il dialetto santo sa simbillata bisogna il dialetto del loro ebrano sa simbillata della rumera del dialetto del monti canto russo c'è contatto canto russo è facile a comunicare tra comunità linguistica diversa canto russo questo dialetto sa simbillata quando arriva a monti bisi che ha dialetto scritto all'accana in papeli in questa carta geografica che però c'è tutti monti in meso tipo bitti e orune già si distese da nessun dicimo cento mentre c'è il dialetto del guspini e del gono si distese da 13 dicimo di dunque accanto russo c'è comunicazione a introd una comunità linguistica e a introd una macro comunità linguistica ovviamente c'è sarda visica altun russo c'è comunicazione tanti russo e scopetenze la linguistica sassim villalta e punti omogenei dunque definiamo un sandroso però la lingua è l'insieme di comportamenti che caratterizzano l'interazione linguistica definizione sussuriana bieviorista sommati all'insieme di conoscenze che caratterizzano la competenza linguistica dei membri di una comunità tocca la pon impari s'approccio sussuriano bieviorista su un portamento sa lingua che comportamento e s'approccio c'è un schiano sa lingua che conoscenza tocca la se non c'è non di essi del gusto diremmo non poresi e commenti una cosa dire due facesi non di volesi pigare inconsideri una scelta quasi pigare rotte russo ok questo derus già in o si riusci otto famiglia non lessito familiare ci punti famiglia sa on di scelti in cosa famiglia certo fu edus in cosa manera eccetera 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 no questo è normale gruppo dei pari più coetane certo no punti compagio della scuola amici cedus le serali lua la lingua della simbilla devruzo appartenete allo stesso sesso e femmina e masco non fu in l'antra europeo sa lo più mare c'è molta differenza spesso potete scelte lessicali però vorrei resti devruppo noi non non ci ha mai fatto conto da pagata non sa l'italiano da pubblico mera film americano e intendi che i femmina devru non c'è per esempio sa è devru non c'è come una i eccetera eccetera appartenenti alla stessa categoria sociale esistenti sociolettus dialettus sociali e poi c'è vulti il dialetto se vuoi intessi come noi in castello non vogliamo uscire questa situazione ancora subrucchio però in stampaggio vuoi dante una maniera in Sant'Elias un'altra maniera eccetera eccetera poi questo bisogno di definire no non dà ricordo in iglesia pur chi vi sta degusti vicinao a picciocchetto no fia sta orgoglioso di degusti l'altro non lo può stabilire e dunque si può dare in maniera diversa ho tutto questo discorso è serbile può dare il corso sono generali linguistica commenti se lavorano con questa scuola italiana commenti voi gustos dove sono erati mi faccio vedere su internet si questo scravo su universitario di disaster non c'è nessuno su chi vuoi arrivare a una omologazione linguistica è contro natura secondo non serbili si comprende osappari coedenti in ognuna maniera su dunca se noi chi e da clavo è clavo non me non non c'è talo ognuno dunca sa corso e finita sai voi sa scola i giornali presentata sa sa barierà linguistica la differenziazione lingua commenti una cosa negativa no questa è una cosa naturale è simplicita la lingua è simplicita la subvattua uno sa lingua serve pur a definir identitario e identitario pur gruppo spitticos gruppo sociale miticos uno secondo sicuramente questa interazione non può dire linguistica attraversone non può dire se avrò più modotto automaticamente comincia a esistir differenza e questo in america in muovi esso americano non proprio in maniera totodotto omogenea e voglio dire dialetto diverso quando si esprimono però in muovi cittadisi nascendo proprio dialetto specifico di questa cittadisi l'inglese americano è differenziato sempre del russo è una tendenza naturale questa cosa non siete nodadimmo e non per suddini ma non fai di manca da via mai non puoi dire questo sardo che grande famiglia del dialetto se esistono in una situazione normale naturale e non del risultato della braccidura dei sardo pisano genovese catalano santi brazzi no 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 tutto questo è una situazione normale comunità linguistica naturale fin da quando si vuole una comunità linguistica naturale o dunca commenti definirlo sa lingua se vuole tornare la definizione del sa sure del lang commenti in un sistema astratto di regola che vunti prazzi di una comunità linguistica contrapposta alla parola chiesti su chi uno va dicando esiste uno sistema astratto che non è curso la differenza tra competenza e performance che usano ma è proprio quando ho approvato con questa gira a pizzo di differenza tra dialetto sardo mi raccattiamo una cosa strana quando io disinaramo tra i miei questo fuente su dialetto 1 fino tan preciso su mera e a savini in questo risultato in 75 dialetto su gara e sa media dei fuente su sardo i beniti di altra lingua partendo del medioevo esti su 15 100 vale razzo 14 e 15 100 paghe nude paghissimo i fuente italiani esattamente san metà è proprio questa cosa minima indispensabile computer aeroplano questa cosa è paghissimo però fuente di indagata mu fuente italiani come ti sto avendo idea pure fatto fatto mi dicessi un fuente italiano sardizzato voi siamo impressi questa cosa da imparare un inglese un italiano eccetera eccetera dunque devo leggere interferenze dell'italiano in competenza mia individuale e cosa che devo ammettare questo sardo quando tengo su tempo di ci pensare dunque questa è questa competenza mia individuale devo ammettare di prosumire l'italianismo di cosa che ammettare quando definisco lang che sci che costo fuente italiani fuente accettato dedotto dunque la differenza tra lang e competenza si vuole definire in questa maniera lang costo che sci che accettano esatto puro che non è un fenomeno mio idiosincraticamente individuale ma è un prezzo dedotto dunque che a me mi ci vuole spostare no ci uberò che non dovete non questo sardo vuoi mi linciano ma roppano dopo non vogliono questo tipo questa competenza mia esiste spostare però in sa lang della comunità linguistica sardo esiste coi au questa differenza fra collettiva e individua e torraus dove la lang il francese si parla in francia in ias si firma sa linguistica sussuriana a un di circa infatti sa linguistica strutturalista e stava rara hai descrizioni descrizione dessa parola tu andaste intervistaste a uno e scriaste su giannau e ti firmaste non è questo non potreste fare poeta non sia un diviago sa lang francese si parla in francia ma non è di a it dunque sa lingua viene il sorritorio sa lingua è in sa con che non è in francia è in sa con che è francese su francese e che uno francese si sposta a questa Francia sa lingua non è cambiata e che alcun altro è arrivare in Francia e su francese non uscì dunque sa lingua torra ha suo problema man di questo dilemma definito che fenomeno sociale e individuale ok la convenienza linguistica consiste in quell'insieme di nozioni lessicali parole e morfemi mi si chiesi i morfemi sono anche quelli fanno parte del lessico no per esempio il morfema del diminutivo la forma che ha questo morfema è fissata una volta per tutte chi non la conosce non la conosce uccio etto ino in italiano no poi sa manera de de da podai a su v e se parte dessa grammatica però sa forma eccetera meccanismi grammaticali e pragmatici sa pragmatica esti sul studio de simpelu corretto dessa lingua socialmente corretto no poi bie os ha donato esempio su questa cosa che bisogna aver interiorizzato per conoscere una lingua tu depisi ponai ponai conoscere questa lingua depisi teni una competenza lessicale morfo lessicale competenza sintattica morfo sintattica fonologica e pragmatica competenza linguistica sull'essico essa grammatica non fonti due cose che vunti separare in tutto poeta e sull'essico ci vunti una frase fatta cosa tipo si andare a prendi si andare a prendi no che non bollinae che manda la papai no tocca raducire tabollinae però non è separare questa grammatica voi tra le poesie di ti dà saprondi 10 dà tapprondi mind dà paprandi dunca sa este una mistura tra lessico e grammatica c'è un'interazione tra queste due cose infatti e a fiar ora fin se sintatici stanno a fonti molendo a c'homsky voi tra c'homsky questa cosa non las puoi spiegare po' c'homsky sull'essico è separato il soggetto e il soggetto della grammatica invece non è possibile rubare ok grammatica regola i principi lessico fuori frasi fatta e morfema e c'è interazione c'è un modello schematico di organizzare questa grammatica o meglio questa competenza linguistica in conca di un individuo competenza sintattica posato su una frase di a ci non esibiamo mai no non può dire però la comprende subito comprende proprio diretto su che bollina con uno vueddu che le si non vueddu vueddu strambo non mi viene ti non vueddu l'andesco ah eh chec non conoscesse se vueddu non comprendesse con una frase non conoscesse se avrase la comprendesse questa è la competenza sintattica quando lui bollisi donai informazioni in noa in una lingua non può esimperare fuetus e via poeta su vueddu contenire per definizione informazioni beccia poeta che devo e tu non prassiamo queste informazioni non si comprende a par che devo impere un vueddu che non conoscesse non si comprende niente comunicazione chi vuole si noa depisi vuoddu concorda in una manera su uno con s'altro che si informazioni noa terribli e questo vuole si vai grazie a sa competenza sintattica chi deve mistur il proprio vueddu da un altra manera non c'è comunicazione dunque questa competenza di sasintassi che ti permette di uno significato di gust di gustavrasia e noi non ti permette nulla voi che gustavrasia non segui le regole sasintassi questa competenza sintattica tu scisi non molto negozi a questa lingua senza scendere di uscire con scienza tacita competenza monologica scritto di a ecci però non non c'è di a ecci so vispesi lì quasi co c'è un creso c'è l'altro su risultato molto negozi questo è su sardo poi russu basta parolacce basta insulti ma commenti vai te anai a su sardo tu scrivi commenti tu pronuncia tu pronunciare commenti provanci su obispo de siliqua si es co jadu in cresia depisi la sai a perde a su sardo non funziona non è possibile non è possibile scrive i pronuncianti sa come si scrive non è possibile perché poi la savonologia è troppo ricca non lo permette competenza morfologica questo è bellicetta manu diminutivo manigetta non manetta poi genu diminutivo genu edu e non genu i edu ma non sa c'è stessa questa è competenza linguistica risultato polisi scioverai il sullessico ciremesi d'usmo femasa edu e i gedu e so vera sacus il risultato perfettamente binario manigetta manigetta genu edu ritmicamente punti savropiuris punti un v due alla potenza zero due spesi due gruppi di sillabe binarie due alla potenza uno quattro sillabe due alla potenza due otto segmenti due alla potenza tre e poi una frase ideale esti dei seji elementi due alla potenza quattro alla quarta potenza e la binarietà si e questo è sul ritmo noso organizzoso il sonoso dessa lingua è tutto lingua non siete susati susati questo dovrai avvi bene voi tattini se possibili riscioverai e cercaus di organizzare tutto il sonoso dessa lingua in un ritmo binario a di tutto esti duso o una votenza del duso che già rinesce dunque sa chi sull'essico ci remisi due formas e di vernici di descioverai descioverai la forma che li sa su output binario e questo dove si dove tutto ma nessuno su du sindicato questo può essere usato rendere la possibilità descioverai però bis in tutta lingua sa tendenzia a arrivare un ritmo binario è fortissimo tutto lì questo sono organizzazioni dei solos competenze vesicali questo già è un lì lì sporra chi ne conosce questo due è una specie di lati resti chi non chi non conosce non c'è comunicazione questa differenza tra questo non vi risparmio questo è il modello mio delle competenze linguistiche e è il risultato dell'interazione tra savonologia che sti cussai susu e sa morfosi in tassi chi esti cussai in basso il solos di una lingua depiti fai due cose nel suo proprio momento comunicai uno significato e poi gussu d'ogna vorma di diversa d'ogna altra vorma se non c'è tenisi ambiguitari questa distintività di questa lingua e non c'è una parte questa forza che facoltà simbolica generale o facoltà semiotica tirara la idiosincraticità dell'ogna forma linguistica ma c'è trovarti però una lingua che ti resti facile imparare dunque ti resti regolare dunque tendere a simbillare e ogni forma tendere a simbillare a esattra forma e ogni lingua è il risultato di un equilibrio dinamico tra queste due forze una di avanti e una di avanti poi arrivare a risolvere questo conflitto sui punti intrinsecos la lingua di esempio un modello di interazione linguistica questo modello esiste la teoria di ottimali lari o ottimality in italiano ottimality esiste l'idea del 1993 e impari una teoria della struttura linguistica ti permette l'idea risolvere un bello vago dei problemi ora competenza pragmatica e fare una pausa ci vi avvito questo amico sardo che vive la canta Amsterdam e noi mi spassiamo a questo legno all'ottano mi spassiamo a due fatti ma se pensiamo più pregunte ma tu c'è questo è questo è sì non comprendia ancora non tenia una competenza pragmatica adeguata sì adesso lo chiamo questo vi gara questa pregunta mia non commenta una richiesta gentilmente formulata indiretta da vi gara letteralmente e 2000 sì noi faremo ogni aborto e se ogni aborto mi lo sarà fin stas accanto dunque a otto anni sono più ancora noi vono a imperai non tenere ancora una competenza pragmatica adeguata questa grammaticale è già come questa di un umano ma questa competenza pragmatica ancora non è a posto sa sa competenza pragmatica prevede di ponnai ca chi deo zeo un amico su spuntinendi fu ed in una certa manera chi non può dire se sa proprio de ando banda già in banca a domandare un mutuo no dunque sa i noi urubieus la sa diversidade linguistica è implica sul sistema sa lingua non può dire sia omogenea se non sa non rinescesi a attende un'interazione linguistica adeguata ad ogni situazione diversa sa tendenzia a diversificare sa lingua è implicita in sa lingua il su vatto che sa lingua sembra una montone cosa diversa dunque registros privadoso e stili informali registros pubblicos stili formali però con sa gruppo grammatica ci vuol dire se che il registro proprio ma lo scatto in italiano registros formali burocratico giudiziari politico politico tireni vincere una sintassi che è diversa sa morfologia for la deduta che è diversa può ricambiare in mera e su lessico dunque sa punti sa competenza pragmatica è sovrapposta a cosa chiede sa competenza grammaticale lessicale questa situazione ha un diboleo sarribai comente minimo e custa situazioni ideali del bilinguismo caro nosce adesso usato tenisi questa competenza di italiano burro custa questa situazione uno schema custo burro idealizzato negali essa situazione in sardinia ci rende sicuramente ideali su sardo che è su sardo del suo luogo poeta naturalmente il sardo è il mio questo vediamo dei vecchi tutto il regionale di Aici e poi a Savini di questo continuo c'è l'italiano literario ragazzi è bello questo cari scrittori di luce la tu cus no in mezzo c'è un montone di cosa e mancai in origine su sardo italiano viena da due sistemi proprio nettamente in boi non è più di Aici in con can nostra c'è uno continuo c'è una mistura poi tra su sardo l'italiano è meno puro e Deo mi difenda ancora non vado che vedo l'italianismo sintattico e lessicale poi arrivato a l'italiano regionale di sardegna chi andrà bene chi non fu l'italiano popolare di sardegna che è proprio l'italiano procedino e poi è tutto però uno con fili netto non c'è plus questa situazione questo è il modello di competenza linguistica dopo il di se ciclopedia del bilinguismo il modello del doppio iceberg e noi teniamo su una competenza di questo tipo tornare la cosa quindi circa su di separare l'italiano e l'usardo e però c'è di noi aspetta sempre tanto bruso se si rilassano tanto bruso la lingua si misturano e tutto questo è basato a pizzo su di questa competenza di noi teniamo ancora situazioni sotto controllo su questo è su che l'indicata si deve però quando arriva da se in tassi non hai gli occhi non ha capito e pure non è italiano e questa competenza taggida o come non io c'è reale e poi ci vunti cosa come sul ritmo che si succedi è in ogni cosa che è vero no il caso ritmo non è in ogni cosa che è dunque questo è un modello e questo è un modello di questa competenza linguistica ipotetica di un picciocchetto poi non 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 è equilibrata lingua informale non grammaticale sardo questo italiano può sbilanciare o meno però di oggi è dove non abbiamo ascoltato nemmeno come ti fai se lo misurai una cosa di oggi comprendo, è una cosa già provavo una borsa a sviluppare uno d'est può misurare questa competenza grammaticale però è un loretto è uno disastro ok dunque, chi vuole arrivare a una grammatica normativa descrittiva e non prescrittiva sui depi fai est a analizzare questa competenza linguistica di uno scanto fuodantisi fasi s'analisi agattasi sugli esti regolari e di bogasa sugli esti sul risultato di sa performa su cui vai in un momento non hai in un momento se non mi chiede dal ragazzo che puoi buffare acqua no? e questa competenza fonologica cambia non cambia la vero questa maniera di questionare concreta è cambiante poi mi chiede dal ragazzo questa è la differenza tra la competenza su cui sciur chi è ma depi vai e sa performa che è sugli vatti di adegu e non sempre loro tra queste cose dunque diogasa il fenomeno di esecuzione e l'assasa irregolari di adegu e tagattasi una grammatica normativa però descrittiva e non prescrittiva dunque non c'è nessuno che si è inventato regolasa di imponi a corpo dei bastoni a spicciocchetti ma semplicemente castieni studieni saproduzione linguistica di gente che si usano di uscini arriva a dire di desti lai sui vuti irregolasa naturalisi finita da un certo punto spontanea lai del naturale adesso usano e sa grammatica che deve o fare o sussano deve essere descrittiva non prescrittiva ma normativa può essere normativa ma che non sia la prescrittiva o può arrivare a it viene a tirare linguistica ideale sul nucleo sa parte prosintima desi identitari linguistica può usare e su sardo nessuno e mancai con su sigantannai casa lsc distrugge la varietà linguistica non se tutto può su sardo nessuno cosa è sa parte prosintima desi identitari può dottoso e cosa ne pira varrai poi a giro degusti questa identitari è accimuta a giro degusti su sardo scritto è esatto il dialetto sardo adesso manca lo scoprendo a giro degusti l'italiano scritto è fuori d'ao a giro degusti l'inglese ma che frappare su cinese su cinese di bollio papai dunque cosa è questo obiettivo nostro dubisio identità multipla a cipolla una parte più intima e poi sempre più mirata all'uso pratico dunque su sardo non puoi tenere più funzioni dell'italiano o dell'inglese poi ti servite a fare cose diverse dunque nessuno si boide su monolinguismo esatto nessuno si boide distrugge i barri che esistono in Sardegna punti tutto che allunghi poi non è che questa cosa non la sapunare se non la sapunare esatto pure però sempre in vita si accusano dei bolivai sugli attivati l'italiano su un'uso l'obiettivo nostro è questo questo vero ok e ora lo vado l'altro